Mancano meno di cinque mesi al 6 giugno, giorno in cui, a 21 anni esatti dall'omicidio, suor Maria Laura Mainetti sarà beata. La celebrazione verrà a Chiavenna e proprio in considerazione del fatto che l'evento avrà rilevanza nazionale e internazionale, vista la presenza delle suore figlie della Croce in tutto il mondo, la macchina organizzativa è già in moto da mesi. Ieri, per fare il punto e poiché l'emergenza Covid non può certo dirsi rientrata e dunque sarà necessario prepararsi a ipotizzare più scenari, siete tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, preseduta dal prefetto di Sondrio. Alla riunione hanno preso parte il questore, i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il vice comandante dei Vigili del Fuoco, i sindaci di Chiavenna, unitamente al consigliere comunale in supporto all'evento Daniele Ciapponi e di Sondrio, Monsignor Francesco Abbiati, delegato del Vescovo per il coordinamento del Comitato Organizzatore Diocesano, Don Simone Piani dell'Ufficio Liturgico della Diocesi di Como, Monsignor Andrea Caelli, parroco della Comunità Pastorale di Chiavenna e Prata e responsabile del Comitato Locale Operativo, il comandante della Polizia Provinciale, il signor Mauro Ferrari, titolare della società Opla, incaricata dell'organizzazione tecnica dell'evento e il comandante della Polizia Locale di Chiavenna. Il sindaco Luca Dellabitta ha presentato l'evento nella sua dimensione sociale, in particolare evidenziando il grande lavoro di squadra che è già in atto a supporto dell'organizzatore dell'evento religioso. Tutte le istituzioni sono pronte a fare la propria parte per una buona gestione della preparazione dell'evento stesso. Don Andrea Caelli si è invece occupato degli aspetti spirituali e nello specifico, in collaborazione con i referenti della Diocesi, ha predisposto un primo programma della giornata, sottolineando il valore della reciproca collaborazione del lavoro in rete nella preparazione di una celebrazione così importante. Il prefetto ha fatto presente che in quell'occasione dovrà essere attivato il COC, ovvero il centro operativo comunale, il quale sarà in stretto contatto con il centro decisionale di coordinamento che sarà costituito all'uopo. Sempre il prefetto ha evidenziato che saranno coinvolte fin da subito anche le varie società di trasporto, in primis Trenord, perché vengano predisposti treni speciali in grado di favorire un rapido ma scaglionato a flusso e deflusso dei fedeli e un'accurata gestione di flussi e parcheggi. Il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, si è detto sfiducioso del fatto che l'intera provincia non farà mancare il proprio aiuto alla comunità di Chiavenna. In particolare, oltre a coinvolgere il coordinamento provinciale della protezione civile, sarà fornito ogni altro utile supporto. Ai fini organizzativi, tra non molto, la Diocesi di Como predisporrà l'escrizione alla celebrazione con priorità ai gruppi parrocchiali e promuovere il sito www.beatasuarmarialaura.it e un'apposita pagina Facebook per favorire la comunicazione relativa all'importante evento del prossimo 6 giugno.